Rafforzare il rapporto uomo-animale e approfondire le conoscenze che si hanno delle specie che popolano la terra. Si tratta di scoprire come vivono lemuri, scimpanse, mandrilli, macachi e cebi, cosa mangiano, quali difficoltà incontrano, che atteggiamento hanno rispetto alla presenza di un essere umano. Un progetto reso possibile dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Bioparco di Roma, che ha aperto i suoi cancelli alle scuole di Verona, Portice e Falconara. Scimmi a Sarai Tu, questo è il nome dell'iniziativa che ha coinvolto gli studenti e le insegnanti in cinque fasi di lavoro, dall'aggiornamento per i professori alle lezioni a supporto dell'attività, passando per i convegni organizzati da noti ricercatori che hanno introdotto differenti metodi di ricerca scientifica. Gli ultimi due processi dell'ITER hanno permesso di entrare strettamente in contatto con gli animali, osservandoli da vicino e catalogandone alcuni comportamenti per poi passare all'elaborazione dei dati raccolti. Abbiamo visto delle cose incredibili, dei ragazzi che per ore e ore sono stati lì a notare qualsiasi tipo di movimento, qualsiasi tipo di cambiamento comportamentale, come se fosse effettivamente già un ozologo, uno studioso, un etologo. Com'è stato questo nuovo approccio a una materia nuova, l'etologia? Beh, allora, all'inizio è anche un po' strano perché una persona arriva allo zoo e di solito si limita a guardare e a osservare in modo superficiale l'animale e il soggetto che osserva. Invece, con questa esperienza, siamo riusciti ad andare oltre queste barriere e immedesimarci proprio nel compito anche dei ricercatori e quindi comprendere, magari prendere spunto anche per un lavoro futuro. Un progetto partito a settembre e oggi è arrivato al completamento con l'esposizione dei risultati raggiunti. Un'esperienza di vita per i giovani che, osservando gli animali, hanno imparato a conoscere meglio se stessi. E comprendere meglio questi, come si relazionano il loro meccanismo, la loro società, comprendere la loro può aiutare anche noi. È necessario mantenere a sicuro questa biodiversità che arricchisce la nostra vita, la nostra realtà.